Sì, credo che è stata una battaglia oggi, con la intensità, e credo che abbiamo giocato una buona squadra, non mi ricordi che Milano l'ultima settimana, ha vinto la Liga in Italia. Sì, credo che per considerare il primo obiettivo, possiamo fare molto meglio, credo che possiamo fare molto meglio, invece di considerare il obiettivo, magari dopo solo 5 minuti. Sì, abbiamo cercato di creare una situazione per la scuola, ma credo che Milano ha giocato molto bene. Abbiamo avuto l'opportunità, la possibilità di scuola, ma alla fine abbiamo parlato di un'efficienza, un'efficienza. Sì, credo che hanno fatto un'efficienza, Ski e Sarko, credo che hanno entrato, un'efficienza centrale. Come credo che hanno avuto? Sì, credo che sono davvero soddisfatto per i giocatori, perché credo che Pape Sarko e Ski e Ski, hanno giocato un'efficienza davvero buona giocatore. Sì, credo che la fiducia che abbiamo con loro, hanno riportato, riportato questo. Non ricordate che ora siamo con tre midfielders, e abbiamo bisogno di continuare fino alla fine della scuola con questi tre midfielders. E questo tipo di performance di Ski e Pape Sarko mi rende più relazziato, perché ho saputo che posso raccogliere loro 100%. E poi abbiamo Pierrot Oberg, che per noi è un'efficienza che è un'efficienza. E poi è un'efficienza che non è un'efficienza che non è mai stata da perdita, ma per l'injurisla, per l'injurisla, per l'injurisla, è questo risultato ok e che ci sia un'efficienza che ci sia in per la chance? Sì, ma la qualità, hai dovuto giocare due giocatori. Questo è il primo gioco, e l'atmosfera è stata un'atmosfera fantastica. E l'atmosfera è stato un'atmosfera, e l'atmosfera è stato un'atmosfera. E l'atmosfera è stata un'atmosfera. E l'atmosfera è stata un'atmosfera, e per sicuramente i nostri fanno creare l'atmosfera per l'atmosfera e per l'atmosfera. E per l'atmosfera è stata un'atmosfera. Per l'atmosfera è stato un'atmosfera. E l'atmosfera è stato un'atmosfera. Grazie. Grazie.